Sabato 25 giugno nella tenso struttura della Sassonia si tiene la 27esima giornata del cuore rinnovando così l'appuntamento annuale con i temi della prevenzione delle patologie cardiovascolari che sono alla base dell'impegno dell'associazione Fano Cuore. Dalle 10 della mattina forum e dibattiti e poi alle 15 del pomeriggio in poi controllo gratuito della pressione arteriosa e dei valori di colesterolo totale, alcuni dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Questo è il motivo per cui noi ogni anno svolgiamo questa manifestazione nella giornata del cuore, cerchiamo di dare indicazioni su come prevenire le patologie cardiovascolari, noi diamo consigli poi le persone devono ovviamente applicarsi e dare il meglio per cercare di mantenere uno stile di vita appropriato. Sul fronte della salute pubblica e in particolare su quello della sicurezza degli atleti Fano si presenta con le carte in regola anche nei propri impianti tutti dotati di defibrillatore in ottemperanza alla legge che entrerà in vigore dal primo di luglio, questo grazie anche all'importante contributo della fondazione Carifano che con un'ultima tranche di cinque apparecchi ha donato alla città complessivamente 72 defibrillatori facendo così di una città cardiodefibrillata. Noi abbiamo donato in questi ultimi anni 72 defibrillatori alla città di Fano e nel suo territorio anche ai comuni vicini. Oggi, anzi sabato nella giornata del cuore, saranno consegnati gli ultimi cinque dei 72 defibrillatori. Noi da parte nostra con questa ultima consegna completiamo l'intervento sui defibrillatori. Siamo una città cardioprotetta, mi piace definirla così. Tutti gli impianti sportivi comunali, quindi i campi da calcio, le palestre, le palestre scolastiche, hanno tutto un defibrillatore. Abbiamo fatto una grande operazione e qui va ringraziata la fondazione Cassa di Risparmio perché ha dato un grande contributo, ma ci sono stati anche altri momenti di generosità. Questo in realtà è l'inizio di un lavoro che ci impegnerà quest'inverno assieme al dottor Caverni dell'Associazione Fano Cuore, che ringrazio. Faremo un lavoro di controllo dove sono stati messi questi defibrillatori, di aiuto nel posizionamento e anche c'è un'idea di un'app per il telefonino per vedere il defibrillatore più vicino.